Ignazio Boschetto si è sposato. Giovedì 12 settembre il componente del trio Canoro Il volo ha impalmato l'ex Miss Venezuela Internazional Michel Bertolini Il sì è stato pronunciato con rito civile a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, alla presenza di pochissimi familiari e amici Tra gli invitati alla cerimonia, intima e sobria, spiccavano gli altri componenti del volo, Gianluca Ginoble e Piero Barone, e il loro manager Michele Torpedine Il matrimonio è stato tenuto segreto probabilmente per evitare il clamore mediatico Ignazio Boschetto si è sposato senza cravatta. Ignazio Boschetto ha sfoggiato un doppio petto blu con camicia bianca e senza cravatta Michel Bertolini ha indossato un abito bianco, aderente e corto sopra il ginocchio, con parti ricamate in pizzo Il vestito è stata disegnato per lei da Elisabetta Garuffi, moglie del noto comico Paolo Cevoli e titolare di un atelier a Bologna All'uscita del municipio, palloncini e rose bianche e il classico lancio del riso La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso Natale, Ignazio Boschetto e Michel Bertolini hanno annunciato le nozze lo scorso dicembre La proposta di matrimonio è arrivata a Natale. Sì, mille volte si amore mio. Voglio passare la mia vita con te, ti amo tanto Scrisse all'epoca la modella ed ex giocatrice di tennis italo-venezuelana mostrando un prezioso anello all'anulare sinistro Chi è Ignazio Boschetto? Ignazio Boschetto nasce il 4 ottobre 1994 a Bologna da genitori siciliani ed è cresciuto a Marsala, in provincia di Trapani A 14 anni partecipa al talent di Rai 1, Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici In quell'occasione il regista Roberto Cenci, si accorge del talento di Ignazio e dei compagni d'avventura Gianluca Ginobile e Piero Barone, che si erano presentati da solisti Grazie a Cenci, nasce il gruppo, I Tre Tenorini, che ben presto diventa il volo Tre anni fa, il tenore marsalese ha detto addio al padre. Tre anni fa, il cantante marsalese ha perso il padre Vito L'uomo, che insieme alla moglie Caterina Licari ha sempre sostenuto il figlio nel suo percorso verso il successo, si è arreso a un male che lo ha colpito repentinamente non lasciandogli scampo Ignazio Boschetto ha una sorella maggiore, Antonina, detta Nina Fino all'autunno del 2022, prima di conoscere la sua attuale moglie, è stato legato alla ballerina brasiliana Ana Paula Geddes Nel 2020, ha avuto una breve liaison con Roberta Morise, che lo scorso 31 agosto è convolata a nozze con lo chef pluristellato Enrico Bartolini Chi è Michel Bertolini? Michel Bertolini nasce a Caracas il 15 giugno 1994 Nel 2012, a causa di un infortunio, la giovane è costretta ad interrompere la sua carriera da tennista professionista Inizia a lavorare come modella e nel 2013, viene incoronata, Miss Venezuela International La neo-moglie di Ignazio Boschetto è anche imprenditrice E, titolare di un ristorante di sushi, Kikosake Sushi, e di una cantina di vini, Bertolini Wine, con la quale esporta vini italiani all'estero, in particolare Prosecco, Pinot Grigio e Merlot Grazie a tutti